L'inverno, quello vero, arriverà nei giorni della merla, ovvero a fine mese, e porterà pioggia e neve su tutta la provincia di Pesaro Urbino. Poi sarà primavera, che come l'estate però durerà poco. Sono queste, in estrema sintesi, le previsioni del tempo delle cipolle per il 2020, elaborate come ogni anno dalla signora Emanuela Forlini di Urbania, una tradizione che l'insegnante Durantina coltiva con passione grazie al padre Anselmo. Nulla di scientifico, per carità, ma le previsioni delle cipolle di Urbania sono diventate un appuntamento fisso, al quale si guarda sempre con una certa curiosità. E allora vediamole nel dettaglio. Il cambiamento, come detto, arriverà nei giorni del 29, 30 e 31 gennaio, e faranno da apripista ad un febbraio che sarà ricco di precipitazioni con neve, gelo e temperature rigide. Anche marzo vedrà episodi nevosi, mentre il mese di aprile sarà bello e darà il via alla stagione delle fioriture, che però avrà una interruzione a maggio a causa della pioggia. Per i mesi estivi il barometro delle cipolle prevede una situazione altalenante, il caldo arriverà in ritardo e non mancherà la pioggia. Anche luglio, soprattutto nella parte centrale, avrà dei giorni variabili con pioggia. Sarà il mese di agosto, invece, l'unico caratterizzato da tempo bello e soleggiato. Settembre trascorrerà con cieli sereni alternati a pioggia, soprattutto nella terza decade. Ottobre sarà asciutto, senza precipitazioni e con giornate soleggiate, così come novembre, anche se qui la colonnina del mercurio scenderà notevolmente e porterà gelate diffuse. Infine dicembre, dove le cipolle prevedono un Natale con tanta neve, per la gioia di grandi e piccini.